Il nostro sembra essere un tempo totalmente distante dall'amore. Quando si parla di amore nella nostra epoca si avverte la sensazione di un vuoto profondo, anche perché essenzialmente quello che viene chiamato ed evocato come amore oggi andrebbe attentamente distinto dall'amore in senso proprio, da che sembra meglio configurarsi come godimento. Molta parte di quello che oggi viene presentato come amore, come relazione amorosa, come sentimento d'amore in realtà ricade nell'esperienza del godimento, che non può in alcun caso essere confuso con l'amore, anche se l'amore può implicare il godimento, senza mai esaurirsi nel semplice gesto del godere. La nostra epoca sembra invece essere quella del godimento illimitato che tende a sottomettere a sé ogni altra esperienza, fin anche quella dell'amore. Quando si fa filosofia in qualche modo si è costretti a occuparsi dell'amore, anche in un tempo come il nostro che pare aver accantonato l'esperienza amorosa. Non fosse altro che per il fatto che la filosofia è tra tutte le discipline l'unica che ha nel proprio nome l'esperienza stessa d'amore. Uno dei molti modi con cui i greci in realtà hanno messo a tema l'amore. I greci conoscono almeno tre grandi determinazioni concettuali per dire l'amore. Vi è eros, che è l'amore passionale, l'amore erotico, l'amore forte. Vi è agape, che è l'amore di carità, diranno i cristiani, un amore meno legato alla dimensione immediatamente erotica, per certi versi più legato a un voler bene affettivo. E poi infine vi è la filia, che non dovremmo tradurre come spesso facciamo con amicizia perché è un concetto più articolato e più forte nell'immaginario greco. La filosofia ha nel proprio nome essenzialmente una tensione amorosa verso il sapere. La filosofia è dunque amore per il sapere ed evoca nel suo stesso nome questa esperienza. Il filosofo, scrive Platone nel simposio, è sempre innamorato e anzi possiamo dire che l'amore è l'alter ego del filosofo proprio come il filosofo è l'alter ego dell'amore. Platone nel simposio racconta con il suo estro artistico, lui che condanna il mito e la poesia e che poi è un maestro insuperabile nell'elaborazione di miti, racconta il mito della nascita del dio Eros, che è un dio particolare, diverso dagli altri. Eros ha per genitori Poros e Penia, che letteralmente sono l'espediente, Poros, la via d'uscita, in filosofia si chiama aporia, la strada senza via d'uscita letteralmente, il vicolo cieco, e poi ha per genitore anche Penia, che vuol dire povertà, la mancanza, la penuria. L'amore è povertà. Amiamo quando ci sentiamo mancanti di qualcuno o di qualcosa, ma è anche espediente, perché l'amore è l'esperienza mediante la quale noi cerchiamo di superare questa mancanza raggiungendo ciò di cui ci sappiamo mancanti. Che altro significa amare se non mettersi in movimento, tendere verso ciò di cui ci sappiamo privi e che non di meno desideriamo. Ma questa è l'esperienza stessa del filosofo, spiega Platone. Da che il filosofo si distingue dal dio, che sa tutto, e dall'ignorante che non sa nulla. La divinità e l'ignorante sono posizioni diametralmente opposte tra loro, è vero, ma in comune hanno la loro statica presenza. Il dio già sa e quindi non deve mettersi alla ricerca del sapere, l'ignorante non sa e non sa nemmeno di non sapere, dunque non si mette alla ricerca del sapere, di cui è privo, ma di cui non sa di essere privo. Il filosofo per parte sua, come l'ignorante non sa, ma come il dio qualcosa sa, sa di non sapere e quindi è animato dal desiderio, dall'erotica del sapere. Si mette in movimento per superare questa mancanza ed è attratto da un sapere di cui si saprivo. Ecco perché il filosofo è sempre innamorato e sarebbe interessante ragionare su come la nostra epoca sembri equamente distante tanto dall'amore quanto dalla filosofia. La nostra è un'epoca antierotica, che all'amore preferisce il godimento, ed è un'epoca antifilosofica, che alla filosofia preferisce la chiacchiera di superficie, che è un modo fintamente approfondito di saper le cose. La chiacchiera è parlare di tutto senza approfondire nulla e dare per scontato di essere già in possesso del sapere quando in realtà non si sa. La nostra epoca preferisce il godimento, dicevo. Gaudiamus Sigitur potrebbe essere il grande motto del nostro tempo. Il godimento determina ogni circostanza del nostro presente. Life is now, una delle frasi, dei motti preferiti dalle pubblicità, di fatto non fa che ripetere questa esperienza di un godimento che non deve dar luogo a differimenti, ma deve attuarsi ic et nunc, tutto qui, immediatamente. Ed è un godimento che tanto più si realizza quanto più trasgredisce ogni limite, com'è coerente con un'epoca, la nostra, che nell'assenza di limiti trova il proprio fondamento, in ogni ambito. L'assenza di limiti, il superamento di ogni limite, la violazione di ogni inviolabile diventano la cifra di un'epoca che ha dissolto ogni figura del nomos della legge e quindi ogni figura del padre, da quello biologico al padre eterno, al padre dei popoli che si chiama patria, per lasciare soltanto l'esperienza dell'anomia, o come amano dire gli economisti, con una parola che compendia perfettamente lo spirito del nostro tempo, la deregulation, che è l'assenza di ogni regola. È una società di godimento la nostra, una società di consumo e consumo e godimento presentano una profonda analogia. L'ambito economico è quello retto dalla logica e illogica del neoliberismo, che presenta lo Stato come istanza nemica, perché regolamentante, e adesso contrappone gli animal spirits di un'economia deregolamentata in cui l'individuo come imprenditore di sé è chiamato a massimizzare senza limiti il profitto. Ma lo stesso discorso non vale forse anche nell'ambito dell'erotica ridefinita come godimento? Che altro è l'odierno consumatore erotico, se non un liberista applicato alla sfera dell'erotica, del godimento, proprio come il liberista individua nello Stato il proprio nemico, così il libertino individua nella famiglia, nella relazione solida, stabile, il proprio nemico, perché deve accumulare godimenti. E il godimento è per definizione deregolamentato, non può essere inquadrato in un'esperienza stabile, solida. E qui allora la mente corre necessariamente alla grande immagine messa a punto dal genio di Kierkegaard del Don Giovanni, che è proiettato nella sfera estetica. Don Giovanni è incapace di relazioni amorose, proiettato come nel semplice godimento, nella ricerca spasmodica del nuovo, che è l'essenza stessa della civiltà merciforme. Nell'odierno mondo della tecnica, il godimento, ossia la ricerca del nuovo, del consumo di esperienze sempre nuove, diventa lo scopo stesso di un agire che non cerca altro se non la novità in quanto tale. E questa è l'essenza stessa del progresso, così come oggi viene vissuto, percepito e santificato. Questa esperienza si determina paradossalmente nel gesto di Don Giovanni, che cerca sempre il nuovo, ma in realtà ripete sempre e solo la stessa esperienza. Nelle prede, questa è la concezione che ha Don Giovanni delle proprie relazioni, nelle prede che di volta in volta accumula, consuma e poi getta, come nella società di consumo, egli non fa che compiere all'infinito potenzialmente la stessa esperienza. Godimento fine a se stesso, che non si stabilizza mai in quella sfera più alta che Kierkegaard chiama dell'etica. La figura dell'etica, contrapposta a quella di Don Giovanni, è quella del padre di famiglia. Il padre di famiglia è quello che sceglie e conferma la propria scelta, sceglie la vita sentimentale, matrimoniale, e la conferma giorno dopo giorno. Sceglie e consolida il proprio legame. Questo è l'amore contrapposto al godimento. Non esclude il godimento, ma lo innalza a una dimensione in cui il godimento trapassa in qualcosa di fecondo, di stabile. Il vero amore non è quello che liquida l'oggetto merce come consumato, in coerenza col paradigma del consumismo e del consumismo erotico che caratterizza il nostro tempo. Il vero amore è quello che non si estingue mai, o se preferite, cresce mentre si consuma. Il vero amore è quello che dice ancora, o come diceva una canzone di Lucio Battisti, ancora tu. Non si esaurisce mai il vero amore, si rinnova. E sotto questo riguardo possiamo dire che la nostra epoca, che sembra un'epoca neoliberista in quanto neolibertina e neolibertina in quanto neoliberista, conosce l'unica esperienza del pansessualismo. Un godimento deregolamentato, che si determina come erotica della deregulation, come precariato sentimentale, come figura del Don Giovanni che viene presentata come l'unica degna di essere perseguita. E in questo contesto, quel che più stupisce è che nelle relazioni di godimento, le uniche che sembrano consentite nella civiltà dei consumi, l'altro è permanentemente assente. L'assenza dell'altro caratterizza l'amore al tempo del capitale. L'altro figura semplicemente come un medium grazie al quale realizzare il proprio godimento, proprio come nell'antropologia del tardo capitalismo l'altro deve essere distanziato, tenuto a debita distanza e utilizzato come medium in nome dell'algida geometria del dout des liberoscambista. Se mi relaziono a te è semplicemente per massimizzare il mio profitto. Proprio come nell'ambito dell'erotica, se mi relaziono a te è solo per trovare godimento, ottenuto il quale, proprio come Don Giovanni, ti scarto e scelgo un nuovo oggetto di godimento, e così via potenzialmente ad infinito. L'assenza dell'altro. Diceva Jacques Lacan che in realtà ogni amore è eterosessuale, cioè rivolto all'altro. Ogni amore ha a che fare con l'eteron, con l'altro, non importa se sia tecnicamente eterosessuale o omosessuale. Sempre l'altro è l'oggetto del vero amore. L'altra persona. Nel tempo del godimento invece l'altro è permanentemente assente perché figura solo come medium, come cosa da utilizzare, da consumare, in una forma di individualismo paradossalmente. Il nostro tempo che è il tempo dell'individualismo esacerbato e anche il tempo in cui l'amore stesso paradossalmente che diviene godimento perde la figura dell'altro. E il tempo del godimento egoistico in cui vengono meno tutte le prerogative, i presupposti dell'amore. Tra questi l'altruismo. Se vi è un elemento caratterizzante l'amore, esso è nell'altruismo che innerva la relazione amorosa. Agostino Dippona, individuando quella che potremmo con diritto definire la formula magica dell'amore, diceva che essa così suona. Volo ut sis. Voglio che tu sia. Amare significa desiderare la pienezza d'essere dell'altro. Significa proiettarsi in una relazione altruistica e donativa in cui senza nulla in cambio, senza contropartita, infrangendo ogni logica dell'utile, vogliamo semplicemente che l'altro sia in tutta la sua pienezza d'essere. Questo significa realmente amare. Questo significa radicalmente mettere in discussione i principi fondativi di questa nostra società che sembra invece far prevalere l'egoismo a ogni latitudine. Financo nella dimensione dell'amore per i figli. È subentrata già da tempo una esperienza paradossale che sembra essere anch'essa l'antitesi dell'amore. Si parla di diritto ad avere figli. Ma può essere un diritto quello ad avere figli? Non è il figlio l'incontro o l'esito di un incontro, di un'esperienza d'amore? Quando si dice il diritto ad avere figli non si sbilancia già la relazione nella soggettività individuale che desidera, che vuole? Sotto questo riguardo assistiamo a questo egoismo ipertrofico, la società degli egomostri, la nostra, in cui l'individuo pretende di chiamare diritti i propri capricci e i propri desideri. Sotto questo riguardo bisognerebbe tornare a quella scena biblica di Salomone. Quando da re Salomone giungono due donne, pretendendo entrambe di essere la madre del figlio che portano a Salomone, Salomone per dirimere la contesa propone una soluzione di questo tipo. Dato che non posso appurare quale delle due donne sia la madre, taglierò in due parti uguali il bambino e ne assegnerò una parte a ciascuna delle due. Lì si capisce quale delle due è la vera madre, quella che dice non tagliarlo, consegnalo all'altra donna. Cioè volere che l'altro sia, volo ut sis, questo è l'amore, non il diritto e il desiderio di avere la parte. Questo è un concetto particolarmente importante, credo, per mettere in discussione il nostro tempo, che sembra essere quello dell'egoismo, perché l'amore è la cellula di ogni comunità. L'amore potrebbe essere definito, come ha fatto Badiou in un suo pregevole testo sull'amore, come la verità del due. Grazie all'esperienza amorosa noi principiamo a sperimentare il mondo dal punto di vista del due. Lo stesso mondo che fino a quel momento avevamo esperito dal punto di vista dell'io che siamo, cominciamo a esperirlo ora dal punto di vista del due. È una esperienza duale, l'amore è una sintesi duale, dove l'altro non viene annullato. Le forme tossiche dell'amore contemporaneo, che rivelano ancora una volta la matrice dell'egoismo, sono quelle in cui si pretende di annullare l'altro, magari anche fisicamente di annientarlo, per amore, paradosso, come si può per amore uccidere. La storia dell'occidente conosce tutt'al più esperienze di soggetti che per amore uccidono se stessi, Werther, Ortis. Ma uccidere per amore è un controsenso, è una contraddizione addietto. Se si uccide non è amore, perché l'amore implica il rispetto per l'alterità, il desiderio che l'altro si realizzi appieno. È la verità del due, come dicevo, è aprirsi all'altro, lasciarsi attraversare dall'altro affinché l'altro ci completi nella nostra mancanza d'essere. Ciascuno di noi avverte in sé quella che con Sartre chiameremo la mancanza d'essere. Ci sentiamo incompleti. Con buona pace delle retoriche oggi in auge dell'ordine del discorso neoliberista che predica inesistente la società, l'individuo atomo pieno, completamente realizzato nella sua solitudine, magari anche telematica, noi siamo fatti per essere in comunità. Siamo animali politici, dice Aristotele, siamo lo zon politikon, l'animale che vive nella polis, ma siamo anche l'animale che vive nella relazione sentimentale. Siamo lo zon oikonomikon, fatto per loikos, per la relazione familiare, per la relazione sentimentale. L'amore è un'esperienza di altruismo disinteressato, potremmo dire così. Altruismo perché la formula dell'amore, parafrasando Agostino Dippona, è essere per l'altro. Ed è un'esperienza altruistica e donativa al tempo stesso, che sovverte le logiche dell'utile imperante. Non vi è vero amore quando c'è la relazione mercantile, non vi è vero amore quando c'è il circuito del dot des. Aprirsi all'altro è l'amore, senza che l'altro venga riassorbito. Nei suoi frammenti giovanili, francofortesi, Hegel scrive passaggi memorabili sull'amore e dice che nell'amore il separato smette di percepirsi come separato, senza cessare di essere separato. Nell'amore abbiamo una sintesi duale in cui l'altro, il separato, non vive più come separato, ma al tempo stesso non smette di essere qualcosa di altro rispetto a noi. Da che se annullassimo questo dualismo verrebbe meno l'esperienza amorosa. Nell'amore noi amiamo dell'altro la sua particolarità irriducibile e irriproducibile. Anche questo entra in collisione con la società merciforme in cui abbiamo l'omologazione, l'usa e getta, il consumo, in cui l'altro è semplicemente parte seriale, interscambiabile e sostituibile. Cosa significa amare se non amare? L'insostituibilità dell'amato anche nelle sue imperfezioni. Noi amiamo quando amiamo non solo la presunta perfezione dell'altro che lo rende insostituibile, ma anche i suoi difetti. Quel non so che, diceva Montesquieu, che rende l'altro unico e irripetibile e che non riusciamo a esprimere a parole. Il non so che è ciò che rende l'altro diverso e proprio per questo oggetto del nostro amore. E l'amore è sempre legato al nome proprio, non si ama mai inuniversale. L'amore è un'esperienza che dal tu muove al tu, dall'io muove all'altro. È sempre una relazione tra nomi propri. Per questo il discorso cosmopolita che continuamente evoca un inesistente amore per l'umanità entra in seccamente contraddittorio. Noi possiamo amare singole persone, singoli nomi. Amare è sempre mettere un nome. Non si ama mai l'universale. L'inganno del discorso cosmopolita è quello di trasformare in amato un vuoto astratto concetto, di più un universale, che per definizione sottratto ogni possibile esperienza d'amore. Ecco perché forse nell'amore, in conclusione, possiamo ravvisare anche un'esperienza profondamente rivoluzionaria nel tempo presente. O forse la matrice di ogni rivoluzione. In Orwell 1984 la matrice della rivolta parte dall'abbraccio, dall'abbraccio amoroso tra i due protagonisti, in quell'abbraccio di errovesciamento di un intero sistema che ha messo al bando l'amore per imporre un'altra logica, quella del sospetto, della diffidenza, dell'individualismo estremo camuffato dal bene di una comunità superiore, in realtà annullata sotto il peso dell'egoismo del potere. E sotto questo riguardo l'amore diventa potenza rivoluzionaria che sovverte le logiche del potere. A me piace citare in conclusione un'opera di un artista bulgaro, si chiama Miscef, che ha fatto un'opera bellissima che si chiama Il quarto stato, dove i protagonisti, come nel quarto stato di Pellizda Volpedo, sono ritratti in un momento contestativo e rivoluzionario, perché sono ritratti mentre si stanno sposando. Sposarsi oggi, stringere una relazione solida, amorosa, finché morte non separi, sottratta la logica precarista, sottratta la logica utilitarista e di puro godimento, significa introdurre un elemento dirompente nell'ordine delle cose, significa introdurre un elemento di protesta reale nell'ordine della globalizzazione e delle sue odierne sciagure, significa appunto rovesciare l'ordine delle cose, contestarlo operativamente. Oggi lo sposalizio diventa un gesto rivoluzionario non meno dello sciopero messo a tema da Pellizza da Volpedo. L'amore diventa una relazione stabile, è la sola esperienza, se ci pensate, dell'eterno che possiamo fare nella nostra vita quotidiana interattiva con gli altri. Il vero amore pretende sempre di superare le barriere del tempo, pretende sempre di durare. L'esperienza è la dura esperienza del durare, ha scritto un poeta. L'amore è l'esperienza del durare oltre le barriere del tempo. E quindi anche sotto questo riguardo mette fortemente in discussione la nostra civiltà merciforme in cui tutto è effimero e a tempo determinato. Ecco perché possiamo dire, variando una nota formula che forse l'amore salverà il mondo.